Francesco, Giovanna, Vanessa, Federica, Umberto, Nadia, vite, storie, famiglie che in pochi secondi non ci sono più. Sono in tutto 29 le vittime sulle strade Aretine in meno di un anno. Le ultime sono i coniugi Francesco Diana e Giovanna Mori di Ternova Bracciolini, scomparsi tra il 9 e il 10 maggio dopo l'incidente frontale ad indicatore. Appena dieci giorni fa Vanessa Bonatti era stata travolta e uccisa da un'auto a Vaggio nel comune di Castelfranco Pian di Scò. Sono le distrazioni alla guida, secondo le statistiche, le cause principali. Io ritengo che sia in particolar modo una tra queste che è il cellulare. Il cellulare è veramente lo strumento che ti distrae maggiormente perché fisicamente ti allontana dalla strada. Perché nell'istante nel quale tu guardi il cellulare dall'occhio che guarda lo schermo e lo riporti sulla strada, passano alcuni secondi e in quei secondi fatali c'è il dramma. Questo è il concetto. Quindi l'elemento centrale è proprio quello di sensibilizzare, lavorare sulla prevenzione perché sono i comportamenti alla guida scorretti che generano la maggioranza degli incidenti. Le strade sono sicuramente importanti e vanno mantenute in modo assolutamente efficace. Ma la vera causa siamo noi uomini, nel senso noi che non osserviamo questa regola base di dare per scontato in qualche modo che tanto non succede niente per due secondi. Quei due secondi è come tu viaggiassi bendato sostanzialmente. Quindi se tu guardi il cellulare e poi guardi la strada è come tu avresti una benda sugli occhi e quindi tu non vedi veramente quello che succede. In quel caso l'incidente è veramente dietro l'angolo. Poi però c'è un problema serio, importante, che è sotto gli occhi di tutti, più che degli automobilisti, dei motociclisti o dei ciclisti, che sono le buche. Quello tanto è lo stato delle strade, dicevo prima, è assolutamente una delle emergenze in qualche modo che sta sempre in tempi differenti. Le strade vanno mantenute spesso e volentieri. La problematica sta sul fatto che la buca sulla strada non è tanto perché è una questione di dimenticanza dell'amministrazione. La buca si rigenera facilmente e dipende dai periodi anche in particolar modo. Quindi è chiaro che le amministrazioni su questo cercano di porre attenzione e quindi sono convinto che da parte amministrazione nel senso di ciutta di tutto l'ambito di tutti i comuni della provincia c'è attenzione. Spesso, semmai, la cosa importante è cercare di avere più disponibilità finanziaria proprio da poterci collocare. Su questo passaggio mi pare che le amministrazioni abbiano una buona sensibilità. Non trovo amministrazioni in questa provincia che lo fanno con l'assismo, quindi ritengo che ci sia coscienza. È chiaro che è un lavoro che va continuato nel tempo. Una strada abbandonata per molto tempo costa molto di più rispetto a una strada manutenuta nel corso degli anni.